E nel caso di tutti i cittadini Arriveranno dal CONI 300.000 euro per gli impianti sportivi fanesi Il progetto nazionale del comitato denominato Sport e Periferie tende a riqualificare impianti sportivi a livello cittadino decentrati rispetto ad altri e quindi dalla valenza sociale ancora più importante Spesso per le periferie cittadine lo sport rappresenta l'unica occasione di aggregazione e di contrasto alla delinquenza minorile o allo spaccio Certo non è il caso di Fano ma nelle grandi metropoli questo della mancanza di strutture o di strutture vecchie e fattiscenti in zone decentrate è un problema reale Il governo con questo intervento diciamo di 100 milioni di sport e periferie intende recuperare delle aree degradate Adesso non è che siamo qui nelle zone nostre con zone molto degradate però insomma qualche problema c'è e quindi si intende risolvere, dare un contributo a risolvere questi problemi e far vivere meglio la popolazione La città di Fano ha presentato ben sei progetti di riqualificazione sportiva tutti di grande importanza strategica per la città e ben due sono stati quelli accolti dal CONI il circuito ciclistico Marconi ed il campo di calcio denominato dei militari I nostri impianti sportivi hanno bisogno di riqualificazione e questo era un bando di febbraio dedicato alle periferie urbane e a impianti che avevano un taglio nazionale e internazionale Ho fatto una scelta di progetti come ufficio sport che da tempo insomma visito e conosco bene le problematiche e il CONI ci ha passato l'intervento al circuito Marconi di cui sono molto soddisfatta perché è un impianto cittadino che ne usufruiscono almeno 2000 persone a settimana quindi un intervento che durerà almeno 20-30 anni una bella prospettiva per il futuro e poi è stato scelto un impianto periferico su Viale Piceno che è il campo denominato dei militari che attualmente non ospita campionati di calcio perché non è decoroso quindi potrebbe essere l'opportunità per rimettere in funzione un campo Gli oltre 200.000 euro destinati dal CONI al circuito Marconi saranno utilizzati per il rifacimento dei 2,4 km di manto stradale e la sistemazione del verde adiacente Per ora ci si deve accontentare anche se il progetto presentato dall'assessorato comprendeva un box accoglienza più decoroso di quello che c'è e il rifacimento della rete fognaria per un ammontare complessivo di 375.000 euro di spesa e per chi ha visto nascere questa struttura è una grande gioia L'idea della pista nasce perché il ciclismo dovrà svolgersi col passare degli anni solo e esclusivamente su circuiti chiusi perché il traffico è un pericolo per il ciclista